Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi noi parliamo di Labelle Otero e cerchiamo di capire un po' più a fondo chi era Labelle Otero Dunque, i suoi inizi furono assolutamente terribili e devastanti In un piccolo paese spagnolo, nel villaggio di Valca lei era una giovane, 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 giovane donna, una bambina in altre parole nata con il nome di Agustina del Carmen Otero Iglesias che è meglio conosciuta ad oggi con il nome di Carolina Labelle Otero lei era seconda di sette figli, tutti avuti con padri differenti e con così tante bocche da sfamare, Otero e la sua famiglia non avevano molti soldi e da qui in poi le cose andranno veramente per il verso sbagliato Labelle Otero aveva infatti soltanto 11 anni quando un orribile evento altererà il corso della sua vita per sempre quello che faceva le scarpe nel villaggio la stupra e da qui sarà molto difficile per Otero a 11 anni riprendersi tant'è vero che viene mandato dalle suore per curare alcune ferite fisiche e altre emotive ma insomma c'è soltanto una certa quantità di cose che si possono fare quando uno subisce un evento di questo tipo così un anno dopo Otero lascia il suo villaggio e si ritrova completamente da sola adesso si ritrova completamente da sola e quindi che cosa succede? che finisce a fare la prostituta per due anni vagava da un villaggio all'altro e ovviamente poi nell'estate del 1882 è arrivata a Barcelona dove ha incontrato diciamo un nuovo direzione alla sua vita infatti incontra Paco Paco è un ballerino professionista e lui gli insegna come ballare, come sfruttare appieno le sue doti ma lei e Paco hanno una specie di strano intrigo perché? Paco gli dà tutto quello che ha in termini di abilità e skills e dall'altra parte Paco gli dice però senti da un lato facciamo i ballerini ma dall'altro tu sarai praticamente una prostituta e così va la vita quindi piano piano i due riuscirono a scalare dai palchi più infimi a quelli più importanti e così praticamente si sono fatti un nome, una reputazione ma anche dei soldi a un certo punto però Paco prende e si innamora della bella Otero questo è interessante perché si innamora della bella Otero nel momento in cui si innamora gli dice le dice va bene smettila da adesso in poi puoi evitare di fare la prostituta ti mantengo io ma ovviamente a questo punto direi anche ovviamente a questo punto le cose erano già cambiate considerabilmente e lei gli dice no grazie perché ovviamente come si fa adesso a fidarsi di un uomo che prima ti ha sfruttato e ha sfruttato la professione per arricchirsi pure lui e lei comunque gli dice no grazie ma ha già in mente chi le può fare da manager questo perché a Marsiglia in un piccolo cabaret lei aveva incontrato Ernest André Jürgens Jürgens era già un manager di teatro con molta molta esperienza e quindi Otero aveva puntato il suo sguardo su Jürgens e i due iniziarono a collaborare insieme così la bellotero invitò Jürgens per una notte pazza a letto e così lo poteva un po' più manipolare un po' più gestire quindi Jürgens non solo firma il contratto a questa praticamente quasi sconosciuta rispetto a quella che è la sua esperienza ballerina ma anche consente a dargli un stipendio, un salario molto alto da questo momento in poi Jürgens fa praticamente di Otero una star internazionale lui ha messo così tanto hype su di lei che quando effettivamente loro poi riusciranno a debuttare a New York e quando questo succede c'erano così tante aspettative che veramente era impossibile raggiungere quelle aspettative ma era anche veramente impossibile rendersi conto realisticamente delle qualità di Otero e quindi c'è il New York Times che pubblica cose come questa regina della danza internazionale di una misteriosa bellezza spagnola eccetera 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 e le persone speculavano così selvaggiamente sul suo passato che diciamo le aspettative erano tali che Otero non poteva permettersi di fallire e per l'appunto non fallì e queste aspettative erano anche strumentamente incoraggiate da Jürgens e da Otero perché tutti loro volevano in sostanza creare un mito di una star per poi avere uno smashing success così quando lei arriva in America il New York Times scrive che lei sembra danzare con tutti i suoi muscoli che questa sequenza di contorsioni era meravigliosa e quindi Otero era ormai diventata una star a questo punto però anche la situazione con Jürgens diventa complicata perché Jürgens vuole che lei diventi sua moglie e l'abbiamo già visto con Paco e Otero vuole lui come un amico e come un manager ma non lo vuole in quel senso e quindi Jürgens comincia a farle una serie di costosi regali che lo spingono verso l'orlo del baratro al punto che arriva anche a intascare del denaro che era destinato al teatro e a quel punto la strada di La Bella Otero e Jürgens si separano quasi definitivamente potremmo dire e lei va da sola e continua il suo percorso da sola quindi siamo nel 1892 quando lei raggiunge San Pietrasburgo continua a ballare per il pubblico e a intrattenere uomini molto benestanti ai suoi parties che sono privati e qui fa veramente una fortuna perché a questo punto dopo che il New York Times l'aveva consacrata alle cronache fa veramente una fortuna e c'è una cifra esorbitante per cui viene pagata per ballare e per le sue notti selvagge anche quando è a San Pietrasburgo praticamente fa questa entrata che sono otto uomini che la trasportano su un grandissimo passoio di argento e quella stessa notte praticamente le riceverà un pezzo di gioielleria un gioiello che vale più di un milione di rubli e quindi non cose da poco dopo San Pietrasburgo siamo ad agosto siamo verso la fine di agosto ritorna in Francia qui praticamente decide di andare prima al Cirque d'Etat che è molto prestigioso performa lì per come due settimane ma poi decide di andare in un altro posto un po' più risqué e questo posto si chiama La Baltaverine che era un posto di piacere famoso per il suo fishing game per il suo gioco del pesce e praticamente c'erano gentiluomini che facevano dondolare dal balcone pezzi di pane di zenzero sul dance floor quindi sullo stage e ogni ragazza che fosse interessata creava praticamente una specie di linea che fungeva come invito al ballo ed è lì che conosce Alberto di Monaco ora qui le cose si fanno interessanti perché lei in realtà diventa l'amante di Alberto di Monaco e questo abbastanza pubblicamente Alberto di Monaco le paga un appartamento le sta in questo appartamento e al tempo stesso questo appartamento era condiviso temporaneamente cioè molto furtivamente da altri uomini con cui Otero andava a letto ma soprattutto due erano quelli costanti che si alternavano uno era appunto Alberto di Monaco e l'altro era il principe Nicolás di Montenegro e tutti e due stavano nello stesso appartamento e poi il principe Alberto di Monaco visitava e ovviamente la bella Otero non stava sempre nell'appartamento perché noi sappiamo per esempio che nel 1894 lei è al Cairo in Egitto e qui praticamente incontra il vice re che le dona un enorme anello di diamanti che ha il valore di mezzo milione di franchi e anche qui continuo a ricevere estremamente costosi regali adesso succede anche che in quel più o meno nel frattempo ha per pochissimo tempo un amante e il nome di questo amante è Edmond che è un artista squattrinato che ammirava profondamente Otero lei sapeva che lui non poteva permettersi i suoi servizi e quindi in realtà passa una notte praticamente gratuitamente con lui ma la mattina dopo Edmond si fa investire e muore e questo è il modo in cui probabilmente Edmond decide di essere ricordato dalla bella Otero allora abbiamo detto ci sono due uomini uno è il principe di Monaco e uno è il principe Nicolás e loro l'hanno anche supportata abbondantemente dal punto di vista finanziario per molto tempo ma la Bellotero stava prendendo delle altre strade in particolar modo quella del gioco d'azzardo e questo è stato molto interessante perché in realtà ha perso potremmo dire tutta la sua grande fortuna al gioco d'azzardo inizialmente è solo qualcosa di molto pericoloso perché ovviamente ha bisogno di continui finanziamenti ma ce li ha continua a lavorare eccetera e poi vedremo che non metterà i gioielli però le daranno un posto in una stanza sopra il casino e li spenderà moltissimo tempo della sua vita una volta che si è ritirata ma prima di andare alla fine torniamo per un secondo a Jukens perché dopo tutto questo Jukens continuò a provare a rimediare a quella accusa di frode di cui era stato accusato probabilmente in maniera più che giusta e le chiede un appuntamento la Bellotero non aveva soltanto il principe di Montenegro e Prince Albert però a un certo punto divenne anche se per poco l'amante di Edoardo VII re di Inghilterra ma questo è stato soltanto un lieve fling e poi in realtà lei ha avuto anche una relazione più sostanziosa con il gran duca Nicolaievich e allegedly e presuntamente con sua nipote il gran duca il gran duca Pietro ma come abbiamo accennato prima la Bellotero aveva già iniziato ad avere dei problemi con gambling dei problemi con il gioco d'azzardo subito dopo che era riuscito a trasformare 10 franchi in 395.000 franchi e quindi prima viene cacciato da Monaco poi i casino di Monaco praticamente la pregano di ritornare e questo è soltanto il primo round ma eventualmente lei finisce con essere sempre più dipendente dal gioco d'azzardo la sua dipendenza si fa più intensa quando praticamente è costretta a smettere di danzare perché quando ha 34 anni è a Bologna e va a danzare le gridano che ormai è troppo vecchia per fare queste cose così anche non si poteva più nominare Bologna ma sicuramente con il passare del tempo quando lei ha 34 35 anni deve smettere di danzare quindi diventa attrice e in particolare sotto l'idea sotto la suggestione di Paul Frank diventa un'attrice e questo veramente le dà un grande successo i critici la celebrano e celebrano le sue skills le sue abilità ma in realtà lei scopre la sua più grande passione quando già è adulta più che adulta e scopre la sua passione per l'opera la pellotero ha spesso diversi anni ad allenarsi prima di interpretare il ruolo della carne che è la sua opera più famosa e sicuramente l'ha interpretata due volte sicuramente l'audience e i critici l'hanno amata al tempo stesso però ovviamente la sua dipendenza dal gioco d'azzardo cresceva e così dopo l'iniziale supporto del principe di Montenegro del gran duca Nicolai Nicolevich e del principe Alberto di Monaco lei ha finito per giocare tutti i santissimi giorni al casino e questo è il motivo per cui diciamo si è ritirata a vita privata in questa stanza sopra il casino è morta poi effettivamente a 97 anni però non le mancava assolutamente niente aveva tutto quello che le serviva e la sua stanza era poco sopra il casino e diciamo ha avuto una vita forse negli ultimi 50 anni diversa più ritirata fatta di meno avventure in tutti i sensi ma sicuramente importante interessante e in un qualche modo riuscita anche a vendicarsi da avere una qualche forma di riscatto sociale dopo quello che lei era successo quando lei aveva 11 anni è vero che questa in parte in grossa parte riscatto sociale ce l'ha avuto grazie alla prostituzione possiamo soltanto pensare però che abbia che sia riuscita a come dire cambiare un po' le carte in tavola manipolando gli uomini questo che deve essere sfruttata cosa che in parte abbiamo visto e possiamo soltanto sperare che abbia goduto appieno la sua vita che l'è stata rubata così da un certo punto di vista e che l'ha costruita a prendere questa particolare piega detto ciò però ragazzi vogliamo sapere che cosa ne pensate quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale lasciare un like se questo video vi è piaciuto commentare 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 e fateci sapere ovviamente la vostra opinione su la Belle Otero attivate la campanella noi ci vediamo la prossima volta con un altro video ciao